Salve amici dell'Incazzato.it, siamo con Francesco Maione, membro dell'Associazione Insieme per l'Infanzia, referente per il progetto umanitario Friends in Bikers for Africa. Ciao Francesco, cosa consiste questa nuova iniziativa e quali sono gli aspetti innovativi? Questa è una nuova iniziativa della nostra associazione, grazie alla quale vogliamo realizzare un nuovo pozzo di accesso all'acqua potabile in Benin da poter destinare ai villaggi che poi insieme andremo a individuare, insieme al Consolato che ci coordina in queste attività umanitarie. La differenza con gli altri progetti già realizzati è data dal fatto che questa volta stiamo raccogliendo dei fondi in maniera diversa. Il progetto ha una visibilità internazionale, se non mondiale, e stiamo dando la possibilità a chiunque di partecipare con delle piccole donazioni, quindi non contributi esosi, particolarmente impegnativi, ma con tante piccole raccolte, tante piccole gocce d'acqua che noi stiamo mettendo insieme per riempire questo bicchiere d'acqua che poi doneremo ai bambini del Benin. Che cos'è l'iniziativa Dona un Click che partirà il 1 agosto in collaborazione con l'Ex Donation? L'iniziativa Dona un Click è un'iniziativa che noi stiamo avviando da qui a qualche giorno, proprio il 1 agosto, e terminerà a fine anno, insieme alla piattaforma Let's Donation, che è una piattaforma innovativa nata in Italia per sostenere tutte quelle che sono le iniziative che operano nell'ambito sociale. Quindi il profit, loro stanno cercando di mettere in relazione il mondo del profit delle aziende con quello del no profit e fare in modo che gli utenti, le aziende, possano sostenere con piccoli sforzi tutte quelle che sono le iniziative. Il nostro progetto Friends and Bikers for Africa è un progetto che aprirà in via sperimentale questo tipo di collaborazione e sperimentazione e dal 1 agosto è possibile registrarsi sulla piattaforma let'sdonation.com, ricercare il nostro progetto all'interno dei tanti progetti che sono stati presentati e cliccare la propria preferenza sul progetto. In virtù del click, Let's Donation donerà al nostro progetto un euro per ogni click, quindi per ogni manifestazione di consenso ricevuta noi riceveremo questo euro che poi destineremo alla realizzazione degli obiettivi prefissati. Invece in cosa consiste la nuova realtà del crewfunding? Il crewfunding è un po' quello che ho accennato prima, quindi ci sono dei principi cardini che ne governano un po' l'andamento. È una filosofia di finanziamento pubblico nata negli Stati Uniti e non ancora sviluppata in Italia e che noi in maniera pionieristica stiamo sperimentando per finanziarci questa missione umanitaria, questo progetto di cui stiamo parlando. Il crewfunding tradotto letteralmente significa partecipazione del popolo, quindi la possibilità di chiunque di partecipare in maniera attiva e democratica ad un'iniziativa nella quale lui ripone la fiducia e nel momento in cui lui dona e versa un contributo di qualsiasi entità ne fa parte, quindi condividendone tutti quelli che sono gli aspetti, gli impegni e anche i risultati positivi che in genere uno si auspica di ricevere con i progetti che vengono affidati a questo tipo di filosofia. Cosa vi aspettate dunque dal futuro? La nostra ambizione è innanzitutto quella di portare avanti questo progetto dove oltre all'aspetto umanitario abbiamo dato una connotazione anche motociclistica, infatti Friends and Bikers for Africa vuole raccogliere amici e motociclisti a sostegno di questo progetto. I motociclisti perché hanno sempre avuto un riferimento, una visibilità un po' distorta da parte della popolazione, quindi come persone un po' trasgressive che non rispettano le regole, poco attente, poco sensibili agli aspetti umanitari o di ciò che gli circonda. Con questo progetto vogliamo dimostrare, cosa che invece è totalmente il contrario, che è che anche i motociclisti nel momento in cui c'è bisogno di dimostrare la propria umanità e la propria partecipazione ci sanno mettere il cuore oltre che la moto. Quindi noi stiamo coinvolgendo club motociclistici a livello nazionale, anche internazionale, abbiamo avuto adesioni dal Belgio, dall'Olanda, dal Portogallo e ogni club sta mettendo in piedi un'iniziativa per sponsorizzare innanzitutto il nostro progetto, cosa che noi stiamo facendo grazie a queste polo che stiamo distribuendo a tutti i motoclub e organizzare un evento simbolico per la raccolta fondi che poi loro destineranno al monte economico del nostro progetto. Grazie mille.